Il palazzo Maramonte è l'espressione architettonica del potere feudale che per secoli ha governato il territorio di Cursi. Il nucleo più antico della struttura fu edificato dalla famiglia dei baroni Maramonte intorno alla metà del Quattrocento. Le forme architettoniche e gli spazi del palazzo nel corso dei secoli hanno subito numerose modifiche secondo i gusti artistici delle famiglie feudali che si sono succedute. All'Ottocento risalgono gli ultimi rifacimenti, in particolare con la realizzazione della graziosa loggia scandita da un sobrio colonnato scolpito in ordine dorico. Degna di nota è la colonna angolare disposta sul lato sinistro della facciata principale del palazzo, di elegante fattura cinquecentesca. Il palazzo è sede dal 1959 del comune di Cursi e al suo interno sono ospitati gli uffici comunali e la caserma della polizia municipale. L'estro artistico è esaltato nell'androne interno del palazzo. Le volte e gli spazi perimetrali sono decorati da ricche scolpiture realizzate con un gran gusto stilistico e retaggio dell'importante storia feudale di Cursi. Il palazzo è il palazzo di Cursi e al suo interno.